Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi per quelli che vogliono streammare sulla piattaforma viola senza avere problemi di lag anche se molti quando guardano la live non è che mettono a schermo intero perché vabbè ci hanno la visuale davanti e poi a destra ci hanno la chat quindi non ci fanno neanche caso quindi a questo punto cerchiamo di streammare non full hd tipo 1080 ma streameremo in 936 pipi perché oggi molti streamer sulla piattaforma viola streamano anche se hanno una buona scheda video per esempio su rust streamano 936 pipi devo dire che è un buon metodo, una buona procedura per streammare senza avere problemi di lag anche problemi di crash certe volte la live può anche crashare quindi a questo punto che fare andiamo su impostazioni, andiamo su uscita e come potete vedere adesso non posso settare perché sto registrando quindi a questo punto fate sulla codifica nvidia nvnch.264new e come riscala l'uscita mi raccomando fate come me mettete avanzate, dirette, cbr e riguardo alla velocità in bit si può fare facendo un test della connessione ad esempio io che ho il fibra anche se vabbè il massimo qua in Italia mi sembra che arriva vabbè non è il massimo in Italia però da me a 20 megabit di upload che ci posso fare però streamo senza problemi quindi potete anche vedere sulla mia piattaforma vi ho la sul mio account là sopra quindi velocità in bit 4500 kilobit al secondo intervallo dei fotogrammi di chiave 0 preset molti aggiungono massima qualità per quelli che hanno una connessione wifi molto potente ed anche un pc molto potente io metto su qualità e profilo metto questo ok poi lo stesso vale anche su bframe massimi 2 e state certi che non avrete problemi a streamare poi riguardo alle registrazioni e vabbè alle registrazioni per esempio su video non c'è nessun problema io sulla risoluzione di base in quadratura metto 1920x1080 come sto facendo adesso senza problemi quindi registrazioni come potete vedere io registro così fluido senza problemi cqp livello di quantificazione 15 copiate questi settaggi ragazzi codifica lo stesso che abbiamo messo sulle dirette ok poi dove stava dove stava il video eccolo qua valori fps comuni io stavo registrando e vedevo che facevo 30 fps perché stavo facendo 30 fps perché qua stava settato 30 ok quindi cliccate qua sopra e mettete 60 molto semplice quindi che vi posso dire streamerete con una qualità 936p senza laggare abbastanza bene e fluidi e riguardo agli fps non ne perderete parecchi per esempio io quando streamamo in full hd perdevo 30 fps vabbè dipende anche dalla vostra scheda video io ho una 1660 super che adesso sta girando sto registrando quindi che posso dire che posso dire ragazzi se questo video vi è stato utilissimo io vi consiglio di iscrivervi al canale di attivare la campanellina e di lasciare un like mi raccomando seguitemi anche sulla piattaforma via ora entrate nel server discord per maggiori informazioni o per altre cosucce che vi potrebbero servire tipo programmi free e cose così e molti entrano per queste cose qua e quindi niente grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao